Inoltre, noi ricordiamo tutti i produttori che producono questa coltivazione, come le pietre o le maniure, e lo usiamo per produrre energie. Quindi sono un'attività in parallelo. Quindi non c'è più un conflitto con la produzione alimentare e questo tipo di planta. E' una sinergia fulle tra le due attività. Questo è un aspetto cruciale che vorrei dire a voi più a fine. Inoltre, dobbiamo capire che tutto ciò che viene nella planta, viene tornato nel campo. Quindi la economia circolare è molto stricta da questo punto di vista. Inoltre, noi ricordiamo il produttore dell'agricoltura. Quindi possiamo dire che la pietre, per certi aspetti. E anche il importe della nuova coltivazione. Perché il digester, che vedremo alla fine, è usato come fertilizzatore. con una